Oggi faccio slice e manca pochissimo alla partenza! Paolo sei rimasto in mio soccorso! Fra pochissimo devo partire e faccio solo slice. Perfetto, allora mano sinistra a posto delle solite nocche ne metti quattro, quindi la giri verso destra. Così? Perfetto, mano destra anche lei, la giri verso destra. In questo modo? Perfetto, fortissimo! Andiamo, proviamo subito! Abbiamo solo 60 secondi! Perfetto! Iscriviti sul nostro canale YouTube e attiva le notifiche! Seguici su Facebook e Instagram!